La stagione estiva è alle porte, negli stabilimenti balneari di Fano proseguono i lavori per l'allestimento delle spiagge. Qui rispetto a quanto accaduto a Pesaro, i titolari degli stabilimenti non hanno dovuto rinunciare ad affittare gli ombrelloni alle comitive dei più giovani. Anche quest'anno ce ne saranno per tutti, compresi i turisti. A dichiararlo sono gli stessi bagnini di Fano che pur dovendo rispettare i protocolli sanitari per le regole anti-covid sono riusciti a soddisfare tutte le richieste. Molti stabilimenti infatti a livello di prenotazioni sono già andati sold out anche per questa stagione. La pandemia ha comunque dato una restrizione per le norme a tutti i bagnini, non solo a noi, per cui comunque sicuramente già d'anno scorso abbiamo dovuto eliminare un po' di ombrelloni. Però non per questo non è che non hanno prenotato le comitive, soprattutto perché il nostro è comunque un territorio dove c'è un turismo piuttosto locale. E quindi le compagnie assolutamente si sono organizzate per riprendere l'ombrellone. È ovvio che proprio le direttive, le linee guida dicono che nei 10,50 m per ombrellone quadrati non ci possono stare più di 4 persone. Per cui poi le comitive sono organizzate, che erano in 8 in 10 hanno preso due ombrelloni, che erano in 6-7 si tornano all'ombrellone. Avranno sicuramente delle convenzioni con le spiagge e con gli alberghi, per cui è logico che l'albergo che ha una convenzione avrà una prelazione per il proprio cliente. È ovvio che non si può arrivare alla fine di luglio o ai primi di agosto pensando che le spiagge ci siano gli ombrelloni completamente libri, eccetera. Ma questo non è causa pandemia, era così anche prima. Teniamo tutti i vecchi clienti, dovremmo aggiungere anche degli ombrelloni. Quest'anno abbiamo la fortuna che la spiaggia ci si è allungata grazie alla nuova scogliera. Abbiamo poste sia per i giovani che per i turisti. Sotto l'ombrellone si può stare al massimo in 4, sono i 10 m quadrati, ci deve essere un metro tra lettino e lettino. Queste sono le ultime direttive che ci sono arrivate qualche giorno fa. Quanti ombrelloni in più avete dovuto mettere quest'anno? Ancora la contezza esatta non l'abbiamo, però ne metteremo rispetto all'anno scorso 30-40 ombrelloni in più. Per quanto ci riguarda qui Bagni Cafferzilla la situazione è molto positiva. Tutte le compagnie dell'anno scorso hanno comunque riconfermato per quest'anno. Avete dovuto riservare degli ombrelloni turisti? No, più che altro noi viviamo molto con lo stagionale, quindi la nostra spiaggia è praticamente quasi tutta al completo, anche prima dell'inizio della stagione, quindi ci siamo molto soddisfatti, ma soprattutto anche per il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni. Quindi sembra che alla gente piaccia quello che stiamo facendo, quindi continuiamo così dai. Gli ombrelloni quindi ci sono? Quanti ne avete dovuti togliere in totale? Ma rispetto agli altri anni precedenti al Covid è più o meno una trentina, su un ammontare più o meno sui 500, quindi dai poca roba, perché noi comunque avevamo già degli ombrelloni abbastanza distanziati rispetto alle altre spiagge, quindi ne abbiamo persi relativamente pochi insomma.